Ciao ragazzi, continuiamo con un tutorial che chiameremo Trucco Benny. Partiamo con un primer verde che serve per mimetizzare le zone rosse del viso, quindi lo stendiamo su tutto il viso e non preoccupatevi anche se la pelle diventa verde perché comunque sopra metteremo il fondotinta e non si vedrà più niente. Quindi aspettiamo anche questa volta che la pelle lo assorba e nel frattempo prepariamo il fondotinta. Prepariamo il fondotinta, quindi poi lo stendiamo sul viso. Ora stendiamo un velo di cipria per fissare il tutto. Fronte, naso, mento e guance. E poi nelle guance mettiamo il blush. Sorridate. Ok, poi passiamo agli occhi. Per gli occhi usiamo un matitone celeste, si vede sì, e un'altra matita che è turchese. Allora, mettiamo prima quella celeste nella parte interna. Ok, anche nell'altro occhio. E qui mettiamo la matita turchese nella parte finale. Questa matita è un ombretto che è cremoso, quindi bisogna sfumarlo subito perché poi diventa molto molto difficile da sfumare. Quindi prendiamo il pennello da sfumatura. Ok, poi nella parte superiore dell'occhio mettiamo un eyeliner glitterato, argentato, giusto per dare un po' di luce. Ok, tanto poi si camuffa con l'ombretto, quindi anche se non è precisissimo non succede nulla. Poi mascara. E per finire nelle labbra mettiamo un rossetto sul fucsia rosa. E anche questa volta lo mettiamo con il pennellino in modo che si vada di meno. Ok, abbiamo finito il nostro make-up. Spero che vi sia piaciuto. Se volete lasciatemi nei commenti o dei mi piace. Continuate a seguirmi. A presto, un bacio da Barbie. Ciao! Ciao!